I lavori al corso stretto di ripavimentazione fanno discutere. I commercianti a quanto pare non si aspettavano l'allestimento del cantiere per tutti i 150 metri, ma una chiusura meno impattante, nonostante sia stato lasciato il passaggio pedonale e l'accesso a negozi e abitazioni. Mercoledì scorso circa 25 commercianti, che si erano rivolti pure al consigliere comunale Enrico Verini, che aveva appaventato delle soluzioni migliorative, hanno chiesto di ottenuto un incontro con il vice sindaco Daniele. I commercianti vorrebbero dei rimborsi per le mancate entrate, perché nella riunione di novembre si era stabilito di fare diversamente. Non ci siamo preoccupati perché ci avevano assicurato, a novembre noi abbiamo fatto questa riunione, col vice sindaco e tutti quanti, che avrebbero chiuso la strada per massimo 50 metri, si lavorava là e poi si andava avanti. Mentre adesso è cambiato tutto, ci hanno bloccato, anche noi che non abbiamo il cantiere siamo bloccati e non riusciamo più a lavorare. I commercianti sostengono che da lunedì, giorno di allestimento del cantiere, hanno incassato davvero pochissimo e che nessuno gli aveva parlato della modifica del piano di avanzamento dei lavori, motivato dal fatto che ci sarebbero novità normative che non permettevano un allestimento ridotto. La gente non viene? No, no, non viene. È venuto il primo giorno, ma molto hanno già evitato e passato da altre parti perché i vicoletti qua sono stretti e in due non si passa.